un palloncino da dove arriva secondo te no 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 mi è scoppiato il palloncino ti punirò cosa oh no oh no cosa è successo ti ho punito sei in arresto aiuto aiuto ti salveremo grazie più veloce vi prego lasciali andare mai mi hanno scoppiato il palloncino oh ho un'idea aiuto per favore wow è slime ehi uomo palla ho lo slime oh oh posso giocare anch'io si forte si guarda questo slime ciao ciao oh oh wow forza oh oh i rossi sono finiti yeah oh sì oh Attenzione! Scappate! Scappate! Chi ha scoppiato i miei balloncini? Ah, sì! Fai te! Ehi tu! Vieni qui! Mi piace la disco! Vuoi provare? Certo! Voglio provare! Sì! Che bella musica! Mi piace la disco! Ciao, ciao! Mi piace la disco! Forza, Chris! Diamoci da fare! Ho sentito qualcosa! Qualcuno mi scappia i balloncini! Corri, corri, Chris! Ci fai uscire? Per favore! Mai! È ora delle pulizie! Mi piace pulire! Mi piace pulire! Mi piace pulire! Vuoi provare? Ah, voglio provare! Ottimo lavoro! Ok! Ok! Vai! Forza, Chris! Niente paura! Mamma! Oh, uomo palla! Chris, scappa! Scappa veloce! I miei adorati palloncini! Facciamo festa con le bolle! Festa di bolle! Oh, bolle! Mi piacciono le bolle! Vuoi provare, uomo palla? Sì! Che meraviglia! Sono felice! Vai a scoppiare i palloncini! Ok! Per te! Nicole, devi scoppiare i palloncini! Niente paura! Oh, 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 oh! Ehi! Ehi! Scappa, Nicole! Scappa! Scappa, scappa! Scappa, scappa, scappa! Mi avete scoppiato i palloncini! Oh, ancora! Let's go! Frio! Sì, vuoi giocare? Sì, voglio giocare! Hai una bella macchina! Colore blu! Chris, scoppialo! Chris, attento! Oh, oh, oh! 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 Ehi! Oh, no! Corri, Chris! Corri! Corri! Oh, no! Questo è il mio palloncino! Come facciamo ad estrarre l'uomo palla? Oh! Ahah! Questo andrà bene! Da dove viene questo suono? Sveglia! Non si dorme! Ssss! Rieccolo! dorme forza ragazzi scoppiateli tappati le orecchie cos'è? e cos'è? correte correte oh no che peccato ehi uomo palla vieni oh no non abbandono gli ultimi palloncini ehi uomo palla vieni che vuol dire? ehi uomo palla che bel posto mamma ci servo io andiamo oh oh chris guarda oh grazie tesori oh no 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 i miei adorati palloncini oh 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 i miei adorati palloncini oh cosa facciamo ragazzi? ho un'idea yeah per te oh per me? sì oh grazie ho un palloncino ciao 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 è sparito sì ragazzi avete visto che potete vincere ogni sfida insieme agli amici e alla vostra famiglia oh oh yeah oh no wow il pavimento è lava no 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 aiuto 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 ho bisogno di aiuto oh ho bisogno di aiuto oh oh tadaaa pompiere per salvare la situazione oh 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 uh sono qui ciao ciao lava grazie vlad non c'è di che, nikki tutto bene e tu? sì uh 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 devo andare uh uh h quale sceglierò oh polliciotto Policciato per salvare la situazione! Ciao! Questo significa niente e rifiuti! Oh, mi dispiace tanto! Dieci dollari di multa! Ok! Scusi! Juhu! Ho bisogno di un dottore! Aiuto! 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 Mi chiede bisogno di aiuto! Quale sceglierò? Dottore! Ta-da! Il dottor Vlad per salvare la situazione! Juhu! Oh, yeah! Ciao! Wow! Cos'è successo? Mi sono fatto male alla gamba! Ho quello che ci vuole! Aha! Dammi cinque! Grazie, Vlad! Non c'è di che, Niki! Ehi, Chris! Sono piccolino! Dove mi porti? Ha, 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 ha